Siamo fatti tardissimo ma... tipo che... ah... cioè eravamo nuovo... Alla inizia alle 10. Beh, alle 10 si è tanto. Insomma alla fine Chaka, per riuscire a fare due chiacchiere con te... Guarda, c'ho impiegato tutto il tuo. Chaka, 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 chaka... Buonasera. Buonasera. Innanzitutto perché ti chiami Chaka? Chaka vecchia, anni 90, fumetti, rumore di bombolette... Ah, il rumore della bomboletta... Sì, esatto. Sei il tour manager di questa turniera, insomma, di piccole cose. Abbiamo visto Cristiano Sanzeri nella puntata dedicata al suo ruolo che il direttore di produzione ci raccontava che spesso questi due ruoli possono coincidere nella stessa persona oppure, come in questo caso, siete due figure. Sì, fondamentalmente diciamo che quella parte di produzione, ovvero dire l'organizzazione del tour che si va a sommare una con l'altra. E cosa fai come tour manager? Di cosa ti occupi? Della logistica della venda fondamentalmente, dei loro bisogni, dei loro spostamenti... Insomma, mi occupo prevalentemente di quello che è l'artista. Il silenzio imbarazzato è di chissà di non tornare La lasciò senza parole Nella porta che si è chiusa Non senti neanche il rumore Tanto forte era il suono Del suo rancore Ma tu sei anche l'uomo burocratico, cioè che ti occupi del bordero Sì, un po' come Cristiano, insomma, c'è tutta la parte di rendicontazione, di bordero di burocrazia, di controllo di quelle parti che alla fine fanno parte, insomma Non tutti fanno, ma lui lo fa, è bello mettere le scalette d'acqua e gli asciugamani sul palco e leva questo piccolo ruolo anche a noi backliner che ci permette di stare più sereni con le cose Ma sì, con l'aspetto di tecnica che mi piace L'esperienza viene anche dai locali torinesi, i festival torinesi, insomma, si occupa di produzione Se dovessi... come vedi questa produzione? Seriamente Le cose migliori, secondo me, le han dette Reiki e Simone Tutto molto semplice, perché tutto molto spontaneo E questa produzione è particolarmente familiare No, questo è un momento così C'è una carta di credito, quindi gli chiedo i dati Sento che lo stiamo... Dobbiamo andare a mangiare, andiamo eh Dai, allora ciao eh Ciao